Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento qui su YouTube. Oggi parliamo di come inviare una PEC, di come funziona la PEC e di tanto altro. Se hai ricercato questa parola chiave direttamente sul motore di ricerca di YouTube, sei finito sul video giusto. Oltretutto, se questa è la prima volta che vedi uno dei miei video, lascia che io mi presenti. Mi chiamo Ciro Muto, mi occupo di finanza personale, management e crescita personale. Qui all'interno del mio canale YouTube trovi tantissimi video gratuiti che ti spiegano come fare tante cose, sempre in correlazione al tema denaro, crescita personale e molto altro. Se questi video sono di tuo interesse, schiaccia like su questo video, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche, in modo che non, in questo modo non perderai, perdonami, nessuno dei miei prossimi video. Torniamo all'argomento di oggi. Come si invia una PEC? Ma prima di tutto, che cos'è una PEC? E perché è così importante nel 2023 averne una a disposizione, da utilizzare per tutte le comunicazioni, che hai la necessità di inviare anche a enti governativi. Una PEC non è altro che una posta elettronica certificata, che come dice per l'appunto anche il nome, offre l'opportunità di avere una risposta certa in termini di consegna della posta elettronica, sia da parte del mittente che da parte del destinatario. Esistono in Italia tantissime società che offrono la possibilità di avere e attivare una PEC e qualsiasi di queste non offre questa possibilità a costo zero. Che cosa significa? A differenza di una tradizionale posta elettronica, che è quasi sempre gratuita, vedi per esempio servizi come Gmail, Live, Hotmail e molto altro, una posta elettronica certificata quasi sicuramente non è gratuita e ha un costo annuale di mantenimento. Questo proprio perché il prodotto posta elettronica certificata è un prodotto che è adatto ad una tipologia più particolare di cliente e tante volte questa posta elettronica certificata dal privato non viene richiesta perché si tende a pensare, specialmente in Italia ecco, che è un prodotto inutile, ma in realtà la posta elettronica certificata è un prodotto essenziale, non ha un costo sproporzionato, ha semplicemente un costo di apertura che può variare da 40 euro a 50 euro, dipende dove uno richiede l'apertura di questo particolare prodotto che è la posta elettronica certificata. Noi ad esempio abbiamo anche la possibilità di aprire da remoto una posta elettronica certificata anche a privati ad un costo particolare. Dunque se sei interessato all'apertura della posta elettronica certificata mandaci un messaggio alla nostra casella di posta elettronica che trovi nella descrizione di questo video e per completezza di informazioni te la illustro anche in modo vocale è infochiocciola ciromuto.com scrivici che hai necessità di una casella di posta elettronica certificata ti daremo tutte le informazioni per aprirla e anche ti indicheremo quali sono i costi e le tempistiche perché come ti dicevo una volta ammortizzato tra virgolette quello che è il costo di apertura avrai soltanto un costo di mantenimento annuo che è veramente irrisorio tante volte non si arriva neanche a 10 euro l'anno e oggi avere una posta elettronica certificata a disposizione è molto importante perché se oggi stai guardando questo video è perché devi inviare una posta elettronica certificata e non sai come fare spiegate un attimo quali sono tutti i quesiti inerenti all'apertura ai costi e a quant'altro cerchiamo di capire come si invia una posta elettronica certificata che è anche il titolo di questo video l'invio della posta elettronica certificata non è tanto differente dall'invio di un messaggio di posta elettronica normale infatti una volta che hai una tua casella di posta elettronica certificata l'unica cosa da fare sarà accedere al tuo provider con nome utente e password e ti ritroverai in una interfaccia che è uguale a quella di qualsiasi casella di posta elettronica dunque l'unica differenza è proprio quella relativa alle funzionalità che questa casella offre perché con una PEC potrai mandare una PEC ad un'altra PEC ovviamente puoi mandare anche dei messaggi di posta elettronica normali ma non ha alcun senso farlo dalla posta elettronica certificata quindi una volta aperta la tua casella PEC potrai scrivere il tuo messaggio potrai allegare i documenti potrai inviarli al tuo destinatario l'unica differenza è che facendo un messaggio con la posta elettronica certificata si ha l'opportunità di sapere se realmente quel messaggio è stato ricevuto da parte del destinatario e la stessa cosa vale anche a chi manda a te una PEC un'altra cosa importante che mi sento di ricordare e consigliare all'interno di questo video è avere una posta elettronica certificata con una dimensione in termini di spazio abbastanza capiente da riuscire a sopperire tutte le comunicazioni che devi inviare se sei un privato quasi sicuramente hai bisogno di poco spazio in termini di capienza della posta elettronica se invece sei magari un'impresa hai bisogno di più spazio perché gli allegati che dovrai inviare possono essere magari tanti e possono avere un peso maggiore perché la posta elettronica certificata si acquista anche in termini di dimensioni di spazio totale che la casella offre più grande è lo spazio che ti serve maggiore è il costo annuale da sopperire quindi la procedura di invio è molto semplice scrivi il messaggio alleghi il file da allegare inserisci il destinatario schiacciato invia nell'immediato o al massimo dopo 30-40 secondi dal tuo invio della posta elettronica certificata riceverai due messaggi uno di conferma e un altro di apertura questi messaggi sono automatici e ti servono anche per avere una traccia dell'invio in modo corretto al tuo destinatario infatti se commetti un errore di battitura nell'indirizzo PEC del destinatario riceverai un messaggio che ti indicherà in modo automatico che quella mail che hai mandato o meglio quella PEC spedita non è stata recapitata al tuo destinatario quindi in questo modo potrai anche verificare se hai commesso un errore in fase di battitura o se la casella è completamente sbagliata queste sono un po' le informazioni di base sulla questione PEC e sul come funziona e anche sul perché è così importante averne una come ti dicevo anche all'inizio di questo video se hai la necessità di richiedere una casella di posta elettronica certificata puoi mandarci una mail alla mail che trovi in descrizione qui sotto cercheremo di risponderti il prima possibile e di indicarti i costi e tempi di apertura il tempo di apertura in genere non supera i 5-6 giorni lavorativi ma noi indichiamo sempre 7 giorni questo perché essendo una posta elettronica certificata bisogna validare i documenti del richiedente sia se è un privato che se è un'azienda e servono comunque dei giorni lavorativi spero insomma che questo video possa esserti stato di aiuto se così è stato ti invito di nuovo a schiacciare like perché per l'algoritmo di google e di youtube in questo caso è davvero molto importante se ancora non ti sei iscritto al canale iscriviti attiva la campanellina delle notifiche perché magari il prossimo video potrebbe essere ancora più interessante più utile proprio su tematiche che possono interessarti prima di salutarti voglio anche ricordarti quali sono gli altri miei canali social funzionali e sempre interessanti ho il mio canale tiktok che racchiude un pochino tutti quei video brevi di informazioni attuali qui sotto nella descrizione trovi il mio canale telegram totalmente gratuito ogni giorno cerchiamo insieme a insomma alle persone che mi aiutano di condividere quelli che sono i prodotti e i servizi attualmente disponibili e convenienti quindi ti consiglio di iscriverti anche al canale telegram e sempre qui sotto c'è il canale podcast abbiamo soltanto il link per il canale podcast direttamente sull'applicazione che funziona per iphone ma il podcast in questione è disponibile su tutte le piattaforme che possa essere spotify oppure google podcast e via discorrendo è disponibile su qualsiasi piattaforma di podcast e si chiama a scuola di business all'interno di questo podcast potrai imparare in modo gratuito tantissime questioni relative all'imprenditorialità alla crescita personale e tanto altro ti consiglio di iscriverti perché è gratis ed è molto interessante con questo è davvero tutto io ti saluto ti aspetto in un prossimo video sempre qui su youtube e che dire grazie per essere restato fino a questo punto del video ciao